Sì, è bellissimo che lei arriva. Ok, vediamo un attimo. Mi sentite ora? Credo di sì. Ci siamo? Sì, mi sentite. Allora, benvenuti. Ero stata bravissima, mi ero collegata alle 5 in punto, ma ho fatto evidentemente casino schiacciando qualcosa. Signore e signori, oggi andremo a casa di una leggenda del calcio che si chiama Riccardo e che tutti conoscete come Kakà. Signore e signore, è un grande piacere rappresentare il mio amico Riccardo Kakà. Adesso lo chiamerò e prima volevo dirvi che ogni tanto mi vedrete leggere perché ci sono delle cose che vogliamo, degli argomenti che vogliamo affrontare e che sono abbastanza particolari, quindi me li sono scritti in portoghese. e scrivi cose in portoghese per non cometer error. Quindi, di volta che mi vedo leggendo. Ok, ok? Ok, 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 ok. Tutto certo. Tutto certo. Boa. Ascoltami Riccardo, benvenuto. Grazie. Grazie a te per questa videochiamata perché, diciamo, voi italiani siete un po' in avanti con il tema, questo difficile tema che stiamo attraversando in questo momento e quindi ci puoi dare una grande mano con quello che avete già vissuto che noi possiamo anche evitare. Speriamo di sì ed è proprio così. Tra l'altro, Riccardo, você sabe che quando dicevamo prima che abbiamo questa riunione, alcune persone mi chiedono perché io ti conosco? Riccardo, riccardo, riccardo. Riccardo, 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 riccardo. Riccardo, 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 a mia paixão per Milano. Perfetto. Certo. Certo. Certo, ecco. E io credo che è un nome che io admiro molto, di vero. E abbiamo molti cose in comunicazione, e molto importante è che siamo due ambassiatori del Programa Mondiale di Alimenti, né? Siamo tutti e due ambassiatori del World Food Programme e io e Riccardo ci conosciamo da tanti anni. Io sono una sua grande fan e ammiro molto non solamente il suo talento, ma la persona che ho conosciuto in questi anni, il suo modo di essere con la sua famiglia. Mi piace, è una delle persone che ho conosciuto in questi anni viaggiando, che ha lasciato qualcosa di speciale nella mia vita. Riccardo e io fomos amici per molto tempo e noi chiamiamo nei giorni di oggi per sapere come le nostre famiglie sono, certo? Certo, ma io anche voglio parlare quanto io ho un carino, una ammirazione per voi, non solo per il talento musical, ma per la persona che sei. Certo, quindi il Milano è arrivato a noi, l'Italia è arrivato a noi, l'Italia è arrivato a noi, l'Obrigadeiro è arrivato a noi. Certo, bene, fico con il Sajad, va a mandare, va a mandare un'encomenda di Brigadeiro per voi. Perfetto. E creò questo vínculo di amizia che è molto legale e per questo è un piacere a noi stiamo qui conversando, battendo un papo e, chiaro, grazie perché questa amiziae veio un po' nel momento non solo con la Laura, ma con tantissime persone che ci sono in Italia. Io ho conversato diariamente con amici italiani per sapere come è che stanno, come è che sta la situazione, e la Laura è stata super disponibile per aiutare a noi, per aiutare un po' quello che sta succedendo in Italia. Sì, perché Riccardo mi dice che il Brasile sta começando a conoscere questo virus, e come voi sapere, io moro in Italia, e qui il virus vive già per più di un mese. Quindi io e Riccardo pensiamo in condividere i nostri pensamenti con voi, voi che sono i nostri fãi, i nostri amici, è vero? Quindi facciamo così. Benvenuti a tutti nelle nostre casas. Benvenuti a tutti. Dillo a te che tanto parli italiano meglio di me. Benvenuti a tutti alla mia casa a São Paulo. Adesso sono in Brasile a casa ormai da otto giorni. Sono otto giorni che sono a casa, faccio tutto da qui. E niente, esco solo nei momenti di emergenza o che devo uscire per forza. Quindi anche voi siete già in quarantena? Voi già stanno tutti in casa in quarantena? Già, già stanno tutti in casa in quarantena. Già fa 3 giorni che qui in São Paolo... Questo è lei, né? Quarantena è ora ora è obbligato, le loggie sono fechate. Le loggie sono fechate. Quindi è obbligato a 3 giorni. Ok. Perché in Italia siamo già in casa per molte settimane. stiamo preoccupati. Ma siamo un po' forte, molto forte qui in Italia. È come il Brasile. Quanto tempo ormai sei a casa? L'ultimo giorno che io sono uscita è stato il 3 marzo. Quindi cominciano ad essere tanti giorni. Ovviamente anche da prima si cominciavano a sentire tante voci che venivano dalla Cina. Io facevo un sacco di viaggi in quel periodo nel resto d'Europa. Quindi viaggiavo già con la mascherina. Molti mi prendevano in giro. Ma poi la situazione è diventata molto grave. Grazie che mi fai questa domanda. Perché c'è una cosa che mi ero segnata della quale volevo parlare. Perché mi preoccupa molto quello che purtroppo penso succederà in Brasile. in Brasile. Si parla sempre della prima fase, no? Sto vedendo che anche in Messico, in Nord America, tutti dicono, molti presidenti dicono che siamo solamente nella prima fase. Ma l'inizio dell'Infesao è un momento chiave. Io penso che il Brasile sta a una ora di evitare una tragedia. Perché è stato al comienzo della pandemia. Noi, intanto, per evitare la tragedia, devi stare immediatamente qui in casa. E non metti gli errori che erano commerciti qui in Europa. E sono molto importanti. Noi abbiamo fatto le cose a step, facendo delle fasi che ci hanno portato anche con fatica a dover scegliere. A volte penso che tutti i nostri, i presidenti di tutte le nazioni, sono in una situazione veramente forse la più difficile che stanno affrontando nelle loro carriere. Perché non so come possano fare. Cioè, dentro di noi tutti speriamo che questa prima fase finisca lì. Purtroppo non è così. Perché il virus in ritardo va molto veloce. E questo è molto importante per noi, imparare con gli altri. Quindi il Brasile è un momento… Siamo un po' in ritardo perché il virus è arrivato qui un po' più tardi. E quindi questo è buono, nel senso che possiamo imparare con quelli che hanno già preso le misure per contenere il virus. Quindi vedere che, non lo so, in Singapore sono riusciti a prendere le misure subito, veloci. E in Italia, in Europa, è un esempio già al contrario. Quindi se hai qualche consiglio, cosa secondo te potrebbe essere da una maniera diversa? Io ho sentito e ho letto tantissime cose. In televisione in Italia si parla continuamente del virus e ci sono tantissime interviste che vengono fatte a virologi, adottori, epidemiologi che spiegano. Perché in questa situazione tutti noi non capiamo come finirà, quando finirà, i tempi. Credo che sia molto importante lasciar parlare loro soprattutto. perché poi ci sono una quantità di informazioni che a volte confondono le persone. E' molto importante ascoltare loro che sono gli scienziati, le persone che si occupano di questo. E tutti dicono che la soluzione è rimanere in casa. Quindi si apre tutto una questione un po' difficile perché è anche quella economica che ogni paese dovrà affrontare. Molte persone ovviamente qui in Italia si sono trovate a dover scegliere se rimanere in casa o andare a lavorare e quindi non perdere il lavoro. Insomma, è una situazione molto complicata. Però la priorità è la nostra salute. E quindi restare a casa è davvero l'unica soluzione. Certo, questa è veramente una bilancia molto difficile di scegliere. Certo, speriamo che i nostri leader e governanti siano bravi a fare questa scelta. Se non c'è salute non c'è economia. Esattamente. Però poi quanto l'economia va anche influenzare nella salute, questa bilancia veramente non è facile. Noi speriamo veramente che siano saggi a fare questa decisione. E niente, è un momento molto difficile per tutti. E noi siamo qui per portare un po' di gioia anche a voi, di speranza. Ovviamente, anche. Quindi canta Laura, canta. Cosa canto? Cosa vuoi che canta? Cosa vogliamo fare? Canta. Ti canto dei pestettini. Ma c'è, dai, no, pestettini. No, allora facciamo così Riccardo. Se vuoi fare un concerto non c'è problema. No, non si può fare un concerto. Cioè, noi abbiamo fatto questa diretta per far vedere quello che succede quando noi ci telefoniamo. Che cosa ci diciamo? Io non ti canto al telefono normalmente. È vero, è vero. Però ho visto che quando abbiamo annunciato che facevamo questa diretta tante persone scrivevano canta quella, canta quella. Ma vogliono che canti anche tu, eh? Va bene. Va bene. Io ti seguo. Vabbè, ok. Provi. Ma vediamo se qualcuno di quelli che ci sta scrivendo dice qualche titolo. perché poi alla fine della nostra diretta magari vi facciamo sentire una bella canzone tutta intera, tutta fatta bene. Ragazzi, italiani, brasiliani, spagnoli, cosa facciamo? Ah, vogliono l'inno del Milan. L'inno del Milan? È bella. È bella. Lo sai le parole? Un po'. No, io... Oh, come va? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Camminiamo noi Non è nella nazza in più Insieme cantiamo Milan, Milan, sempre con te. Dai, adoro Milan, forza Milan sempre. Forza Milan sempre, forza Paolo, l'altro giorno l'ho sentito, ho sentito che sta bene, sta meglio, Daniel sta bene, quindi capitano sempre con te. Il capitano, nostro capitano. Forse ci sta seguendo, perché Paolo ogni tanto entra nelle dirette. Se ci sei, non ci riusciamo a vedere perché scrivono veloci, ma ti mandiamo tantissimi baci, Paolo. Grande. Ascolta, Riccardo, ma prima stavamo parlando di adattarsi a un nuovo stile di vita. Per esempio, chiedo chiedo in portoghese, come le persone nel Brasile adottano questo nuovo modo di vita. Il segue, ma regra o non? Guarda, Laura, questa domanda è molto importante perché qui nel Brasile c'è persone seguendo, ma c'è molta gente che non sta levando molto a sério. E questo è il nostro receio. Perché c'è gente che acha che va a prendere il virus e non va a prendere il sintomo. E può succedere, perché abbiamo già visto diverse persone che che avevano il virus e non avevano nessun sintomo. Sì, come in Italia. O che le persone non stanno capendo è che tutto il mondo, independente del che pega e del che non pega il virus, va a vivere questa conseguenza. Perché quanto più gente ti ha, meno gente ti ha nelle imprese, lavorando, meno emprego ti ha, è una roda per tutti. Quanto più a gente tentare, attraverso queste medidas che sono adottate oggi, nel momento, tentare conter questa situazione, meglio. Le prossime decisioni, quello che a gente stava parlando un po' della economia, come questa balanza va a se equilibrare, questo a gente deixa un pochino più per la frente. Il momento è questo di tutto in casa, tentando conter la expansione del virus lo più rapido possibile, per non encher il sistema di salute, dove la grande chance di avere un colapso è immensa. Quindi questo è il momento. O che a gente tem che vivere ora, e che sta sendo molto legale, è un giorno di ogni ogni ogni. E il giorno di oggi è questo. Quindi che noi, le persone, possano aprendere con i errori da quelli che già cometerano questi errori, è tempo di ficare in casa. È tempo di non... Per me, io, può essere che non abbia sintomi come un signor di idade, ma può essere che abbia anche. Perché io voglio giocare con questa possibilità? Quindi, in questo momento, possiamo essere coerenti, responsabili, senza miedo, senza pavoro, senza desespero, ma coerenti e responsabili, senza pânico. E senza pânico. E senza pânico, e stare in casa, è vero. E... E... Allora, in Italia, quando começou con il pedito di stare in casa, gli italiani si rispeitaram immediatamente? Sono già un po' di settimane, anche alcune settimane. Ma... Ma... Que i suoi figli dicono? E li facendo molte domande? Mei figli facendo molte domande? Meus figli facendo molte domande. E... 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 Italiana, italiana. Grande, un genio. Un genio quella, veramente. Bellissimo, il video è bellissimo. La mia figlia, che ha 7 anni, vuole sapere tutto, e stiamo spiegando quello che significa avere un virus, spiegando perché dovremmo stare a casa. Le ragazze devono sapere la realtà, noi adulti dobbiamo spiegare bene e con licenza, la verità. È importante dire tutto ai bambini, credo, no? È importante che loro saibano lo che sta succedendo, non sconder nulla, ma quello che tu hai detto è molto importante. Oggi abbiamo molta informazione, molta informazione e poca verità. È difficile sapere cosa è verità. Esattamente. I tuoi figli fanno lezioni in casa? Da una settimana fanno il home learning. Sì, come noi. Anche la mia bimba ha un sacco di cose, devo dire. Da quando siamo fermi a casa, ammiro sempre di più i professori, gli insegnanti, perché lei fa praticamente un paio di ore di lezione insieme a noi genitori e poi dopo fanno i compiti. oggi sono delle giornate abbastanza lunghe, diciamo, come ritornare a scuola anche noi, no? È vero. È anche bello, diciamo così. Alla fine sei un po' stanco di quello, però è molto bello fare le lezioni con loro e vedere anche la maniera oggi come imparano le cose, che è diverso dal nostro tempo. Quindi studiare con loro è bello, molto bello. Sì. Sono giornate lunghe, però divertenti. Ma loro quando sono a casa cantano? Loro? Isabella canta. Luca no. Isabella canta. Isabella quanti anni ha? Isabella ha otto anni adesso e Luca undici. E che cosa canta? Isabella canta tantissime canzoni in inglese. Adesso con il TikTok. Oh mio Dio. Io ho dovuto eliminare l'applicazione dal telefono perché mia figlia stava facendo TikTok tutto il giorno e era impassita. Però canta e conosce anche lei tantissime canzoni, ovviamente. Ogni tanto la interrogo per sapere se conosce qualche mia canzone, quelle più particolari. Cosa dici? Ma in realtà le sa tutte e sa anche quelle in versione portoghese. C'è una che esiste in italiano e in un pezzo portoghese che si chiama Se ami sai, che fa così. Se ami sai quando tutto finisce, se ami sai come un brivido triste, come in un film dalle delle scene già viste, che se ne va. Oh no! Sabis che chega da ora da storis. Dori di quando si accava un suo amore. Ora non mi ricordo in portoghese, devo cercare al computer le parole. Questa canzone, penso, è una canzone vecchia. L'avevo cantata insieme al grandissimo Gilberto Gil. Eh, che bello. Una bellezza di uomini, veramente? Dimai, Gilberto Gil è un grande artista brasileiro che noi abbiamo qui. Esattamente. E tu che musica ascolti? Ascolti Anita? Ascolto un po' di tutto. Sì, ascolto un po' di tutto. Che musica italiana si sente adesso? Si sente qualcosa di nuovo? Perché è un po' di tempo che i cantanti italiani non viaggiano. Infatti, no, no. Per adesso qui in Brasile siete te, Eros, tantissimo. Andrea, vocelli anche, no? Vocelli. Diciamo, sono questi. Allora fammi vedere se trovo il finale. E adesso lo sto trovando. Aspetta, eh. Perché mi piace sta roba qua. Perché ce ne sono un po' di canzoni che ho fatto anche in portoghese. Perché sono molto testarda. Mi sa che ci sono anche cantanti brasiliani che hanno tradotto le tue canzoni per il portoghese. Può darsi, no? Sì. Hanno fatto tanti. Beh, Sandy Junior hanno fatto tante canzoni tipo... Incancellabile, no? Sì, Incancellabile hanno fatto. Anche non c'è. Mi hanno mandato anche recentemente, che non l'hanno, non l'avevo mai sentita, che in italiano è... Non c'è, non c'è il profumo della tua pelle. Poi ce l'ho in spagnolo che è... Se fue, se fue, el perfume de sus cabellos. Ma loro l'avevano fatta, mi sembra che si chiama Nauter. Nauter, Nauter. La devo sentire. Adesso la sento su Spotify. Guarda, in diretta. Vai. Loro? Sandy Junior. Guarda come erano piccoli! Bellissimo. Sai che loro l'anno scorso sono tornati, no? Sì, in uno stadio hanno fatto un mega concerto, no? Sì, hanno fatto un anno, un tour di un anno. Tutto il Brasile è stato bellissimo, perché poi è della mia generazione, no? Sì, certo. Quindi hanno fatto un anno e è stato bello. Molto, molto divertente. Sono tanti gli artisti brasiliani. Io lo sai, sono innamorata del Brasile, quindi mi piacciono anche tanti generi diversi, perché sento un po' di tutto in realtà. Prima, quando siamo entrati, c'era Alejandro Sanz, che è anche molto famoso. Sì, ho visto. Io e Alejandro abbiamo cantato insieme una canzone che è stata scritta da uno dei più grandi cantautori che abbiamo in Italia, che si chiama Viaggio Antonacci e che si chiama Vivimi, questa canzone. Mamma mia, vai, canta! La canto? Allora... Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. E qui la sai? Vivimi senza paura. Che sia una vita o che sia un'ora. Questo mio spazio adesso è aperto, ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso. Ascolta quello che ho qui dentro. Va molto bene che la sai, eh, signor Kakà. No, ma io non so cantare, chiaro. Anche se penso che sono un talento musicale che non hanno capito bene, però mi piace tanto la musica italiana. Eros, quando ero in Italia, Eros era il mio vicino di casa, quindi... Sì, mi ricordo. Quando volevo ascoltare qualcosa, bussavo lì. Eros, canta per me, per favore. Vai, fai qualcosa. Ascolta, ma che canzoni sai di Eros? Dai, facciamone una insieme. Ah, Aurora, che era anche per la bimba, no? Sì, chiaro. Che adesso è una ragazza bellissima e bravissima. È molto sveglia. Sì, lei era sempre lì e quindi questa è quella che mi ha rimasto il più. Sì, vediamo... Aurora Eros era... Massotti, perché la so ovviamente, però non voglio sbagliarmi le parole. Allora... Sarà, sarà l'aurora Per me sarà così Come uscirne fuori Come respirare un'aria nuova Sempre di più Oddio, è bellissima E tu E tu Amore Vedrai Che presto tornerai Dove adesso non ci sei Madonna Eros, grande! Lo salutiamo! Ciao Eros! Grande Eros! Grazie! Poi, che altri aneddoti mi puoi raccontare di quando eri in Italia? Fala pra me di quando eravamo in Italia, non Milano, eh? Milano che è una città, sai, che è molto colpita in questo momento, ma come te la ricordi? È bruttissimo vedere veramente quello che succede in Italia in questo momento. No, i ricordi che ho in Italia sono sempre i migliori ricordi. Quindi ho visto una foto ieri di un amico che ha fatto una foto della piazza del Duomo. Vuota, 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 triste. Quindi per me mi dispiace tantissimo. Quindi facciamo i bei ricordi. Questa è la soluzione. Cioè lasciare le nostre piazze libere è la soluzione. Questo è la cosa che dobbiamo fare e che dovete fare anche voi, secondo me. Guarda, visto che ti ho detto questa cosa, questa parola, io ho una canzone che è una delle mie ultime canzoni che si chiama La soluzione. Siccome vedo che ci scrivono un sacco di persone anche da tanti altri paesi, tipo mi stanno scrivendo perché no cantasene spagnolo. Allora, canto un pedacito di questa canzone e te la dedico Riccardo, è una canzone che ho cantato con un artista messicano che si chiama Carlos Rivera, che saluto e che è un grandissimo artista. E che si chiama La soluzione. Come si dice in portoghese? La soluzione? La soluzione. La soluzione. Non esiste in portoghese questa, però fa così. Dobbiamo far tradurre, dobbiamo prendere qualcuno per cantare questa cosa. Allora, lascio un passato di spettri e cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento, per coprirti le spalle solo col mio silenzio. e non distingo più. Orizzonti, universi o destinazione, sei ancora tu. La soluzione. Avevo detto che cantavo in spagnolo, quindi ho sbagliato. La soluzione. A ver, la soluzione. E così fa. Dejo un passato di spettri, busco nuovi confini. In le foglie di otoio esconderò i miei temi. Dejo tutto il mio miedo in il soffio del vento. E te cubro l'occhio di un prudente silenzio. E non distingo ancora. Horizonte, universo, mi direzione. Solo eres tu la soluzione. Devo farla, devo farla questa in portoghese, porca vacca. La deve fare, veramente, la deve fare. Allora, vediamo se ci sono delle cose che mi ero segnata che ti volevo chiedere. No, io vorrei farti una domanda. Mi dica, mi dica. In questo giorno, dobbiamo essere a casa. E quindi cosa fai ter a casa in questo giorno? In portoghese. In portoghese. O que você faz esses dias? Porque aqui a gente está buscando alternativas. Enfim, para... Muitas coisas. Conta o que você faz em casa. Praticamente, solo faccio le tue 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 tue. Lição de casa. Lição de casa. Lição de casa. Tarefa. Puede ser tarefa de casa. Tarefa. 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 Hai visto? Sai qual è Hunters? Adesso guardiamo se... perché voi li traducete, vero? Sì, adesso alcune sì, altre no. Ma i titoli? Dipende. Mi dice che si chiama Hunters anche in portoghese. Non posso dire esattamente... Comunque è con Al Pacino. Molto interessante. Hunters. Cacciatori. Come lo traduciamo in portoghese? Passadores. Può che si chiama sì. È Hunters anche in portoghese. È Hunters anche. E poi ho visto... perché non mi piacciono quelle troppo di fantascienza. A te piace? No. Quindi dimmi te una che mi consigli. Aiuto, aspetta che mi sono collegata a Netflix, fa casino. Aspetta un attimo, ecco. No, dimmi qualche serie che mi suggerisci tu. Ah, aspetta un attimo, aspetta. Il Metodo Kominsky. Bella. Con Michael Douglas. Mi è piaciuto tantissimo. Poi spero che tu abbia visto Breaking Bad. Adesso me lo sento. Sì sì, Breaking Bad l'ho visto. Sto vedendo i nuovi episodi di Soul. Allora... Ciao! Eh? Gli ho detto Hunters. Poi cosa stiamo guardando, amore? The Outsider. Ah, The Outsider. Devi vedere The Outsider. Te le devo dire tutte le serie, perché io sono una fanatica. Bravo. Ma, Better Call Saul lo sai qual è? Oddio. Mi ha messo anche la musichina di Better Call Saul. No dai, mi piace tantissimo. È sempre parte di Breaking Bad quello, diciamo tipo spin-off, no? Sì. E poi... dimmi te, intanto io cerco dei titoli. Io stavo, io, più verso lo sport. Stavo guardando una della nazionale brasiliana che si chiama All In. All In, sì. No. All or Nothing. Ah! Sto facendo un casino. Sì, All or Nothing. Sì, penso che sia questa che racconta un po' quello che è successo in Coppa America l'anno scorso. Poi quella della Formula 1 che è molto bella. Poi tanti amici in comune. Sì. Filippo che ci saluta. E infatti, ma Filippo come sta? Rubens Barrichello che ci saluta. È vero Rubens. Lo seguo sempre Rubens. Anche Tony Canaan. Quindi, ragazzi, un saluto. Saluto a tutti, ragazzi. Grandi. Forza Brasil. E Italia. Perché alla fine, vedi che... Questa serie della Formula 1 è molto bella. Perché guardi un po' quello che succede. Ascolta un po', ma il calcio lì, le partite stanno continuando a farle o sono fermate? Sospeso. Il campionato è fermo. Sì, come da noi, giustamente. No, no. È giusto, giusto che sia così. Quindi, cioè, tutte queste serie che mi consigli sono più di sport. Tu pensi allo sport anche quando ti devi rilassare? No. Guardo una con mia moglie, che è This Is Us. La mia preferita! Bravissimo! Beh, ma dai, scopenda. Dove siete arrivati? Siamo arrivati. Siamo nella quarta stagione. Siamo fino in fondo. Tu? Anch'io, finito. Ma non vedo l'altro. Cioè, io sono innamorata di tutti i personaggi. Cioè, non puoi capire. Guarda, c'è Pippo, c'è Pippo Insagi che ci saluta. Ciao, Pippo! Ciao, Pippo! Come va? Un saluto, amico mio. Allora, visto che abbiamo parlato di sere televisive, siamo stati anche, diciamo, attenti e bravi, secondo me, a parlare di quello che ci diciamo al telefono quando ci chiamiamo preoccupati di che cosa succede. Cosa sta succedendo in Brasile? Come va in Italia? Questo è quello che noi ci chiediamo. Prima di salutarci, volevamo dire qualcosa di speciale. Io lo vorrei dire in portoghese e se vuoi tu agli italiani. Certo. Adesso, antes di cercare, io vorrei dire una cosa per tutto il Brasile. ho. Se la esperienza italiana ha qualcosa da insegnare, è che le 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 le. devem ser tomadas imediatamente implementadas com absoluta certeza e rigorosamente aplicadas por todos hasta fiquem casa certo se non sei bravo, lo detto bene bravissima a mensagem foi mandata, galera galera, beleza nossa, que beleza de alguém que está na nossa frente com relação ao combate a esse vírus então a mensagem foi mandada, como eu falei a gente não sabe muito o que vai acontecer e quais são os próximos passos e o dia de amanhã, então a mensagem da Laura é para o dia de hoje, fique em casa vai arrumando alternativas tem gente falando que se não sair de casa não come, eu sei que tem muitas pessoas que tem realmente essa dificuldade mas entendam também que você pode sair e não voltar ou voltar de uma forma que você não gostaria sei que essa balança é difícil de equilibrar e realmente Deus possa dar muita sabedoria para a gente decidir nesse momento e para todos os italianos então eu sou italiano eu vivi sete anos em Itália então eu sofro muito a ver essas imagens a ver o que está acontecendo então é muito muito triste para mim até mesmo se é da lontano mas o meu mensagem aqui é de esperança realmente porque siete bravos siete fortes e se você tem construído um país tão bonito é porque você tem algo de diferente e também esta vez você vai sair de esta situação de uma forma de uma maneira grandíssima complimenti a todos os doutores a todos os infermios que estão lutando neste momento ali davanti em hospital 24 horas então ragazzi graças milha por aquilo que estão fazendo não posso imaginar o que é estar ali 24 horas vendo essas coisas as famílias que têm perdido de gente de cari familiares que não posso nem portar ao cemiterio então são coisas realmente dolorosas difíceis mas temos um pouco de esperança força fé que este buraco momento passará e l'Italia resterá sempre um país belíssimo não só para o país mas principalmente para as pessoas então l'Italia muito obrigado estamos sempre com vocês um abraço que carinho que você te agradeço tanto Ricardo como disse no início eu disse em português mas somos um povo forte e estamos comportando todos segundo me na maneira migliore é muito importante como me pediu de fazer em português de invitar todos a rimaner em casa e isso é importante também para demonstrar a nós mesmos que ser separados nos pode ensinar melhor a entender quem somos e como somos como nação somos fortes então obrigado por este bacio papo lhe disse bem juntos mas antes de ir embora eu gostaria cantar uma canção toda bela por inteiro gostaria de dedicar uma música para você e para as pessoas que não assistiram eu pensei em cantar uma minha música de sua escolha uma canção minha que te piace muito eu sei é uma canção que existe em italiano e espanhol e português ok então eu preparo a base meto a música eu te controlo Ricardo quero ver se cantar eu prendo aqui eu não te mandou o texto me 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 dimenticada ormai não te posso mais mandar não não em italiano eu canto em italiano ok ok essa canção se chama em português tudo o que eu vivo em spagnolo as coisas que vivem e em italiano as coisas que vivem vamos então vamos deixa eu só explicar por que eu gosto tanto dessa música porque ah sim quero saber março abril de 2009 teve um show seu em milão e foi mais ou menos era o período que eu tava saindo do milão e aí você canta essa música no final do show dedica ela pra mim e fica e fica uma coisa assim é o não só aqui fala muito de amizade mas não só amizade entre nós mas pra mim também foi muito de amizade minha com o Milan minha com a Itália é muito especial para mim e agora te la dedico toda Riccardo te la canto con todo o cuore e com toda a voce vamos vamos ok ok comincio Il suo sentimento è un sentimento che non si deve. Non ti dico come, però succede proprio quando due persone Vanno volando juntos, suben a lo alto, sobre la otra gente, incomodando un salto En la inmensidad, y no habrá distancia, ni desconfianza Si te quedas en mi corazón, ya siempre In qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò Tra le cose che vivi o per sempre vivrò In qualunque posto sarai, ci troveremo vicino In qualunque posto sarai, ci troveremo vicino E sozinho non ti deixarei esse mesmo voo In qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò Tra le cose che vivi o per sempre vivrò In qualunque posto sarai, ci troveremo vicino Solamente due amici più vicini In qualunque posto sarai, ci troveremo vicino In qualunque posto sarai, ci troveremo vicino In qualunque posto sarò, ci troveremo vicino In qualunque posto sarai, ci troveremo vicino In qualunque posto sarò, ci troveremo vicino In qualunque posto sarò, ci troveremo vicino Grazie mille, Laura, bellissimo Grazie mille, la gente da casa canta Vamos, galera, canta di casa, pelo amor di Deus Tra le cose che vivi o per sempre vivrò Ho una voglia, Riccardo Non ce la faccio più Voglio tornare a cantare Voglio andare sul parco Voglio venire in Brasile Voglio voltar no Brasile a cantare C'è la mia voce Fico saudade dos concertos Apenna finisce questa situazione Vieni in Brasile, dai È certo Chiedo a Serginho Groisman di portarti qui Perfetto, nasaltasores Certo Certo Ok Ragazzi, grazie a tutti che siete stati con noi oggi pomeriggio Oggi io salverò questa diretta Così la potete vedere quando vi pare Riccardo, noi ci sentiamo in questi giorni Mi fai sapere come va, no? Certo, sì sì Stiamo in contatto Perché ti informo un po' quello che sta succedendo qua Tu quello che sta succedendo lì Scambiamo un po' di aiuti Sì Siamo forti, dai Siamo forti Siamo forti, dai Esistiamo e lo massiamo questo Non voglio dire Sai che io ogni tanto mi viene il sangue alla testa E quindi dico delle parolacce ma non le devo dire Grazie ancora Riccardo, ti chiamo presto Un bacio a te, alla tua famiglia, ai tuoi bimbi Grazie a te, alla tua famiglia, ai tuoi bimbi Grazie E un abbraccio molto grande a tutto il Brasile A tutte le persone che ci stanno guardando A tutte le persone che ci stanno qui con noi oggi per la tardi Molta forza Quedamonos in casa Io e Riccardo Le mandiamo molti abbraccio E grazie per aver stato qui con noi Grazie a tutti Grazie mille ragazzi Grazie mille ragazzi Obrigado Galera Espero che tenham gostato Un beijão pra vocês Ciao Ciao a tutti A presto Riccardo Ciao a presto Adoro demais Obrigado Un beijo Ciao Un bacio ancora